ciao da nico ricordatevi di iscrivervi al mio canale aspetta lo spengo ricordatevi intanto di iscrivervi al mio canale commentare cliccate anche la campanella almeno rimanete aggiornati sugli aggiornamenti aggiornati sugli aggiornamenti e seguitemi anche su instagram e su facebook perché anche lì spara diverse e è anche uscito il chitarrista ritmico metodo cartascio con link a più di 40 video in tutti i negozi fisici e tutti gli online store oppure se preferite il digital download direttamente dal mio sito qua sopra il video di oggi è dedicato a lui il metronomo ve lo faccio vedere per chi non l'avesse mai visto questo è il classico metronomo che più o meno universalmente riconosciuto come tale specialmente dai musicisti classici è composto da una scocca in legno e una lancetta che scandirà il nostro tempo come facciamo a cambiare il tempo spostiamo questo questo bilanciere in alto per rallentare oppure in basso per aumentare aumentare suo antagonista il metronomo digitale quello che troviamo anche come applicazioni sui telefoni oppure come vero e proprio metronomo eccolo qua vanno bene tutte e due però diciamo che il metronomo è riconosciuto a tutti i musicisti un po come palloso un po noioso antipatico come sonorità però tutti riconoscono che sia utile anzi vi dico anche se pensate di non avere problemi di tempo esercitatevi col metronomo so che nessuno di voi lo fa guardatemi bene in faccia so che nessuno di voi lo fa ma da oggi lo inizierete a utilizzare in ogni vostra sessione di allenamento chitarristico perché perché ve lo farò apprezzare perché lo userete in una maniera diversa facciamo un passo indietro a quando ho imparato a usare il metronomo in questo modo che vi illustrerò a breve qualche tempo fa ho preso alcune lezioni da riccardo galardini un jazzista didatta grande chitarrista suonato anche nell'ambito pop con fossati ha registrato tantissimi artisti mi ha fatto conoscere riccardo una chitarrista che si chiama emily rembler che è scomparsa che però aveva fatto di video intorno agli anni 80 dove lei spiegava come utilizzare il metronomo sul 2 e sul 4 ricordate queste due parole sul 2 e sul 4 per capire meglio lo swing nella musica jazz allora noi però non so se siete jazzisti io non sono un jazzista mi piace fingermi ogni tanto infilare un po di linguaggio jazz nel rock nel pop ma non sono assolutamente un jazzista però ho detto perché questo linguaggio del metronomo 2 sul 2 sul 4 dobbiamo usarlo solo se facciamo jazz possiamo utilizzarlo nella musica diritta rock a ottavi diritti quindi non shuffle non swing eccetera ma certo prima di tutto vi faccio sentire come un metronomo a cose normali viene utilizzato da tutti noi cioè noi impostiamo la velocità che in questo caso è 60 bpm quindi come l'orologio e ci suoniamo insieme sui quarti cioè e ci facciamo le nostre scale le nostre canzoni eccetera ma adesso vi farò vedere come usare il metronomo in una maniera molto più utile secondo me e anche molto più divertente allora intanto diamo il via al nostro metronomo ascoltate bene a cose normali faremo uno due tre e quattro trasformiamo adesso i battiti i click del metronomo in 2 4 immaginiamoci che il metronomo suoni solo sul 2 e sul 4 praticamente che il metronomo faccia il rullante piccola parentesi la cassa della batteria la gran cassa quella che batteria si suona col piede destro suonerà l'uno e il tre il rullante suonerà il 2 e il 4 mi raccomando 2 e 4 2 e 4 è cosiddetto back beat 2 e 4 è quello che dovrete scandire anche quando andate ai concerti e battete il tempo con le mani mi raccomando combattiamo questa cattiva abitudine di scandire il tempo sul 1 e sul 3 2 e 4 quindi questo giochino questa tecnica di usare il metronomo sicuramente vi aiuterà molto anche per capire poi come battere il tempo quindi partiamo con il nostro metronomo a 60 bpm e su ogni click invece di contare 1 2 3 4 pronunciamo solo le parole 2 e 4 o 2 e 4 o 2 e 4 o 2 e 4 o 2 e 4 nella lingua che preferite facciamolo in inglese che è più universale pronti? 2 4 2 4 2 4 2 4 ok adesso nei silenzi negli spazi tra un click e l'altro inseriremo la parola one and three quindi conteremo fino a 4 però facendo corrispondere il click sul 2 e sul 4 quindi 2 4 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 avete sentito come il tempo si ribalta automaticamente mi raccomando quando pronunciate la parola one two three four cercate di dare di sentire il tempo con il vostro corpo perché altrimenti finirete in un effetto valanga che non vi tornerà più niente immaginatevi un batterista proprio che suona a questo punto il mio tempo a 60 bpm non sarà più 60 bpm ma in realtà sarà come 120 cioè sarà raddoppiato però avremmo solo il click sul backbeat quindi solo sul 2 su 4 e questo è la chiave del la ritmica sulla chitarra cioè il seguire il backbeat seguire il rullante se volete approfondire questo modo di suonare sul 2 sul 4 anche sul chitarrista ritmico c'è una lezione dedicata a tutto ciò il chitarrista è tanto legato al rullante e al charleston quanto il bassista è legato alla cassa quindi questo esercizio di suonare sul 2 e sul 4 migliorerà incredibilmente il vostro modo di sentire il tempo quindi torniamo al nostro metronomo a 60 bpm suonato sul 2 sul 4 a questo punto io posso suonare un pezzo a 120 bpm dove però il mio corpo il mio cervello anche sentirà il click come rullante quindi avete sentito il metronomo era a 60 bpm quindi un bpm lento però sentivo molto di più il groove del rullante lo spengo sicuramente è una cosa più simpatica e più stimolante rispetto al classico metronomo in quarti ricordatevi che naturalmente il bpm sarà dimezzato quindi se dovete fare una canzone a 120 dovrà diventare 60 quindi è normale che rimarrete sempre in un range di click molto radi abbastanza radi diciamo esercitatevi partendo da bpm molto bassi io direi dai 40 più che bene 40 60 70 bpm e provate a suonare scale accolti ma specialmente le canzoni su cui dovete esercitarvi specialmente quelle con lo strumming avrete proprio un feeling totalmente diverso e vi sembrerà di suonare insieme a un vero batterista dimenticavo questa cosa la potete fare anche con il metronomo meccanico tradizionale un'altra cosa